E' stato bocciato oppure rimandato in alcune materie? Hai uno o più anni scolastici da recuperare? Sei intenzionato a conseguire un diploma di scuola media o di scuola superiore? Allora, vieni al centro studi privato Giacomo Leopardi a Siderno. Al numero 5 del corso Garibaldi, al primo piano, troverai una struttura accogliente con personale altamente preparato per indirizzi di ragioneria, geometra, liceo classico, liceo scientifico e altri ancora. Nel nostro centro studi privato, alle sfide del futuro, sarei sempre preparato!